Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me Buongiorno al latte e al caffè Buongiorno a chi con c'è E al mio amore buongiorno per dirmi che lei Che per prima al mattino vede il mio corpo E' un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te Buona giornata, ben ritrovati da parte di Emanuela Rossi al nostro appuntamento con la lettura dei titoli dei quotidiani locali nel nostro Buongiorno Rossini Oggi è mercoledì 29 maggio anche oggi una giornata che parte un po' nuvolosa ma poi nel pomeriggio va a schiarirsi il tempo e allora vediamo un tempo a tratti infatti instabile con piogge ma non che riguarderanno la provincia di Pesarurbino piogge che ci saranno al sud della regione Marche eventi deboli o localmente moderati vediamo appunto che nel pomeriggio invece la situazione si schiarisce notevolmente quindi una giornata diciamo piuttosto positiva il sole è sorto alle 5 e 30 minuti tramonterà alle 20 e 38 e andiamo a vedere questo sole timido ma invece qui un cielo molto limpido e trasparente guardate quello di Frontino questo scorcio di questo paesino bellissimo della nostra provincia di Pesarurbino veramente bello guardate che bello questo scorcio allora io voglio salutare tutti gli abitanti di Frontino che ci stanno guardando e saluto chiaramente anche voi e l'invito è sempre quello di partecipare di scriverci i vostri commenti voi che magari ci state guardando dalla diretta sulla pagina Facebook e potete commentare appunto sotto la nostra diretta prima di andare alla lettura del giornale vi voglio ricordare allora delle cose regia abbiamo il Brodetto Fest lo ricordiamo dopo ma voglio ricordare appunto questa diretta televisiva quindi faremo questo confronto in diretta lo faremo martedì 4 giugno alle 21 e 20 il confronto tra i candidati a sindaco del comune di Pesaro vi avete visto i protagonisti ieri due giorni fa o ieri adesso non ricordo bene alla Baia Flaminia all'hotel Baia Flaminia ma in questo caso una diretta televisiva quindi ci sarà un confronto così come siete abituati a vedere in tutti i martedì su Rossini TV e quindi le ultime battute l'ultimo confronto perché poi insomma l'8 e il 9 giugno si va alle votazioni e poi vi ricordo anche la maratona elettorale cioè questa grande diretta televisiva dalle 14 e 30 che faremo il 10 giugno quindi il 10 giugno seguite 14 e 30 la diretta sul canale 80 oppure sulla nostra pagina Facebook perché vi daremo in tempo reale i risultati delle votazioni ed ora andiamo ai giornali purtroppo oggi non ci sono belle notizie che riguardano morti sul lavoro ieri nel nostro telegiornale vi abbiamo dato subito la notizia di questo ragazzo giovanissimo Simone Mezzolani operaio di 33 anni che è morto alla Fab travolto da un carrello al mobilificio di questa azienda di Gallo di Petriano lascia la compagna e due figli piccoli shock dei colleghi della fabbrica oggi ci sarà la mobilitazione dei sindacati oggi alle 11 noi saremo lì perché non è possibile veramente che ancora oggi ci siano così tanti morti sul lavoro e tra l'altro anche il nazionale parla di questa di questa storia bruttissima storia il lavoro che uccide travolto da un rullo nel Pesarese gli mancavano 12 minuti pensate per finire il turno e tornare a casa convocati i costruttori di questo apparecchio che l'ha ucciso i sindacati si mobilitano ormai è una guerra veramente andare a lavorare e perdere la vita è una cosa terribile e un'altra cosa è successa a Modena cade cede scusate il tetto del capannone muore davanti ai colleghi questo ragazzo 44 anni shock a Modena geometra Umbro di 44 anni precipita da 6 metri d'altezza stava facendo un'ispezione prima dei lavori verifiche sulle misure di sicurezza insomma non si può veramente lo state scrivendo tutti anche voi non si può così giovani morire sul lavoro ma in generale non si può e non si deve morire mentre si lavora è veramente terribile quanto accaduto e la comunità tutta la conosceva perché lui era di Vallefoglia poi lavorava a Gallo di Petriano quindi era conosciuto da tantissime persone che sono rimaste ieri veramente scioccate da questa da questa morte poi nel Corriere Adriatico si parla anche dei rebus decreti e sentenze ma chi è in regola sanzione ed è sugli autovelox che le multe restano e il Corriere Adriatico oggi ritorna a parlare di questo caso a Fano di questo insegnante di tennis abusi sugli allievi di tennis sei anni di carcere al maestro e poi anche il resto del Carlino vedete la fotonotizia il giovane papà morto di lavoro la tragedia di Simone schiacciato da un carrello alla Fab lascia due bambini Simone Mezzolani lo vedete qua e poi si parla anche delle barricate contro il supermercato già ve lo avevamo anticipato i residenti in protesta per scongiurare l'apertura di un nuovo supermercato 142 firme raccolte sarebbe il nono pensate in un chilometro è pazzesco così schizzano traffico ma anche inquinamento e poi l'analisi che avete visto anche noi nel nostro telegiornale e dopo vi faremo vedere anche il servizio alcune immagini di questo confronto che c'è stato per i quattro candidati davanti a 500 persone notizie per quanto riguarda la mostra del cinema che quest'anno compie 60 anni a Pesaro ci sono dei nomi pazzeschi apre Sergio Castellitto e poi c'è Jasmine Trinca la Lodovini e Ficarra e Piccone e questa notizia che abbiamo dato anche ieri nel telegiornale 1330 potete rivederlo ve lo ricordo è stata ritrovata una moneta che venne rubata negli anni 70 al nostro museo Oliveriano è stata ritrovata ed ora ritornerà a casa pensate dopo così tanti anni è stata insomma è stata ritrovata e verrà riportata a casa e allora vediamo morire di lavoro lo strazio di Simone schiacciato dal rullo ha tentato in vano di fermarlo con le mani pensate che dolore io vi leggo quello che viene scritto da Roberto Damiani ma è veramente molto difficile leggere queste cose una morte dovuta al funzionamento all'apparenza inspiegabile della macchina utensile Simone la stava pulendo dopo averla disattivata aveva aperto il cancelletto di sicurezza e questo fa scattare grazie ad un relay di blocco del macchinario non è andata così Simone ha proceduto alla manutenzione giornaliera del fine turno per pulire e sistemare ma improvvisamente stando alla ricostruzione fatta dai tecnici la macchina ha ripreso a funzionare sorprendendo il ragazzo nella traiettoria finale del rullo trasportatore Simone si è accorto di essere in trappola ha provato a bloccare il rullo con una mano ma l'urto violento gli ha spezzato il polso per poi ucciderlo schiacciandolo contro il perno in acciaio del finecorsa veramente sono delle letture che sono difficili da fare perché la descrizione di questo ragazzo che cosciente vede la morte in faccia cosciente inizia a provare un dolore in mane per questo polso schiacciato e poi viene schiacciato nel torace in modo cruento e sul colpo è morto Simone Mezzolari figlio del carrozziere del paese era molto conosciuto e ben voluto per capire come sia potuto accadere la tragedia i tecnici dell'aste chiaramente hanno convocato per oggi costruttori del rullo trasportatore un'azienda di Verona chiaramente la fabbrica ieri è stata chiusa le sbarre di accesso abbassate in poco tempo sono arrivati i sindacati che hanno poi incontrato i vertici della fab la famiglia Sperandio per oggi è previsto un presidio dalle 11 alle 12 a Galo di Petriano in centro perché davanti alla fabbrica è terreno privato della ditta e non poteva essere fatto insomma lì dice Roberto Rossini della CGL faremo tre assemblee con i lavoratori per chiedere maggiore sicurezza ma sollecitiamo la prefettura a convocare tutte le parti per pretendere che degli industriali dagli industriali una sensibilità maggiore in tema di sicurezza sul lavoro e poi qua c'è anche il racconto di questa donna che dice anche io lavoravo alla fab un ex dipendente della fab per un fatto del 2018 ho rotto due costole anch'io rischiai la mia vita mi salvò un collega pensate pensate anche quante persone si infortunano e non vengono raccontate magari nelle redazioni nei giornali insomma nei mezzi di comunicazione perché salta all'occhio la morte ma pensate anche quante persone invece si feriscono nelle aziende quindi è veramente una cosa a cui porre fine si dovrebbe veramente porre fine cambiamo argomento c'è stato un confronto un po' all'americana quello avvenuto all'hotel Baia Flaminia la città incontra i candidati a sindaco quindi si è parlato di stadio di nuovo ospedale di movida candidati a duello li vedete qua insomma quelli che hanno partecipato appunto a questa serata fischi applausi e risate oltre 500 persone erano presenti li vedete qui tutte le persone che è curiose di sapere insomma i programmi i progetti di questi candidati a sindaco appunto di Pesaro le scintille ci sono state tra Lanzi e Biancani sul nuovo ospedale di cui tutti e quattro hanno criticato la collocazione a muraglia Lanzi il nuovo stadio ha intenzione di farlo intercettando investimenti privati ma prima di tutto mi occuperai di manutenere le palestre e poi dopo andremo a vedere anche tutte le altre insomma qui nell'articolo potete leggere anche quello che è stato detto dagli altri appunto candidati che vedremo anche nel prossimo quotidiano e poi i nodi della città no al nono supermercato in un chilometro i residenti non lo vogliono assolutamente residenti di Pantano sono in rivolta e sono state raccolte firme contro l'apertura di un eventuale si pensa Eurospin tra case e parco il comune blocchi la variante la variante al PRG effettuato che sarà effettuata dal comune non può che dirsi motivata e scellerata dal momento che su un'area così ristretta imporrà la presenza di un ulteriore supermercato che non potrà che creare un'importante crisi della viabilità proprio in quella zona e Biancani è contrario a questo nuovo iper l'anzi dice stiamo parlando di un'urbanistica schizofrenica il candidato a sindaco del centro-sinistra dice non faremo varianti al PRG quella zona è residenziale per i servizi punto il rappresentante del centro-destra basta con le scelte basate sul profitto i residenti dicono fateci vedere le carte perché noi qui non ci crediamo e abbiamo paura che veramente sorga un nuovo ennesimo supermercato avete prenotato amici qualche in questi giorni qualche visita sul CUP cosa avete notato perché il blackout del CUP in realtà non è finito come era stato annunciato qualche giorno fa prenotate prenotare in farmacia ancora è ancora impossibile dopo l'attacco hacker al sistema il servizio non è stato più ripristinato Pieri di Assofarm dice disagi per gli anziani e al momento nessuno fa previsioni quindi il CUP peraltro il blackout essendo il CUP un sistema unico regionale coinvolge tutte le farmacie della regione Marche non solo diciamo le nostre nella provincia di Pesarrovino in tutte le farmacie nessuna possibilità di aggirare l'intoppo facendo magari qualche chilometro in più quindi nel frattempo però si possono utilizzare i canali telefonici 800 800 0 9 8 7 9 8 oppure c'è anche un fisso anche se fanno notare diversi utenti le attese sono incredibilmente lunghe e allora andiamo a questo fatto curioso bellissimo questo articolo che è stato ripreso questa pagina di giornale il Carlino di 46 anni fa che riportava la notizia del furto trafugato dal Museo Oliveriano a Pesaro antichissime trafugati antichissime monete reperti archeologici pensate stiamo parlando del 1946 e mille esattamente 978 la biblioteca oliveriana venne saccheggiata soprattutto di monete un centinaio circa un periodo quello dove ancora le scorribande dei pirati dell'arte erano frequenti quindi un pezzo rarissimo che raffigurava l'imperatore Traiano e venne rubato nel 78 e vennero sottratti più di mille pezzi abbiamo visto e chiaramente l'ento oliveriana dice questa è una gioia simile a quella per l'ercolino ritorna alla base la moneta d'argento che è stata rubata appunto è stata trovata negli Stati Uniti in una casa d'aste di Lancaster città del dipartimento di Filadelfia una moneta ritenuta rarissima tanto che i carabinieri del nucleo per la tutela del patrimonio artistico di Roma mettono questo medaglione ai primi posti tra i 500 reperti recuperati dall'altra parte dell'oceano quindi complimenti bene avremo anche la testimonianza dello staff della biblioteca oliveriana per questo importante ritrovamento ed ora dal notizio dalla città parte giovedì e andrà avanti fino a domenica la fiera regionale del riuso noi ne abbiamo parlato su Rossini TV e ogni anno ne parliamo di questo evento organizzato dalla Onus Gulliver un evento che parla di riuso appunto dove si vendono si possono acquistare oggetti e vestiti usati e chiaramente tutto il ricavato viene dato alle persone in difficoltà ma non è solo riuso ci sono spettacoli ci sono convegni c'è una sfida una sfilata eco-solidale con i vestiti usati e poi musica tanti stand quindi dalla mattina dalle 10 del mattino fino alle 22 per questi giorni giovedì fino a domenica e vi segnaliamo anche un convegno molto importante conosciamo la tassia di Friedrich che si terrà venerdì alle ore 17 all'hotel Baia Flaminia organizzato dal Leo Club di Pesaro e quindi i giovani ragazzi dei Lions dove ci sarà Giorgia Righi che porterà la propria testimonianza anche come protagonista del film ispirato alla sua vita quindi ragazzi che appunto raccontano la storia di Giorgia la storia la sapete insomma questa giovane ragazza che è stata colpita dalla tassia di Friedrich una malattia terribile rara e se ne parlerà in questo convegno e poi a Soria il campetto dei sogni grazie a uno sponsor privato stiamo parlando di Kellogg's centinaia di bimbi sul playground completamente rinnovato l'inaugurazione alle spalle del San Bartolo presenti testimonial Giorgia Sottana e Giulio Maria Papi e qui è il taglio del nastro di questo appunto playground che è stato diciamo restaurato ripristinato dall'azienda Kellogg's e vogliamo andare a vedere regia i messaggi prima di andare alle pagine di Fano e allora vediamo quelli chiaramente più consistenti non si può morire così giovani per lavorare dice Michela Ornella non si può morire per andare a lavorare giovani uomini padri di famiglie vite spezzate esatto e poi salutiamo tutto a tutti quelli che ci stanno salutando e poi aprono oggi ovunque perché c'è il mercato libero e i piccoli negozi devono chiudere dice sempre Ornella grazie mille e poi buongiorno Emanuela purtroppo non ci sono parole per commentare queste tragedie sul lavoro grazie grazie veramente che ci state scrivendo e non ci sono parole è veramente difficile trovare delle spiegazioni a questi fatti che sono terribili andiamo a Fano Sperona due volanti e poi tenta la fuga preso pusher di cocaina già venduti tre etti aveva 5 grammi addosso altri 60 casa nei guai un baldanzoso 23enne albanese sequestrati 1300 euro in contanti detenzione ai fini di spaccio e anche resistenza a pubblico ufficiale di questo dovrà rispondere a processo questo 23enne arrestato lunedì mattina dagli agenti del commissariato di Fano nel parcheggio del Biricocco accanto ai campi da calcio quando infatti quando infatti lunedì intorno alle 11 le due auto della polizia di stato sono arrivate sul posto e hanno avvicinato appunto l'auto in cui c'era questo pusher un tentativo inutile perché i due agenti sebbene feriti perché lui insomma li ha pure colpiti e ha pure fatto resistenza addosso aveva 5 grammi di cocaina suddivisa in dosi e poi è stato trovato morto nella sua casa Francesco K2 ex componente della musica arabita aveva 79 anni perché prima dei social combatteva la solitudine intessendo conversazioni con il CB ecco lo vedete Francesco Alessandrini pensionato 79enne al Civico 2 di Via Manzoni dove ieri intorno alle 16.30 sono arrivati i vigili del fuoco e l'hanno trovato appunto morto in casa e poi il brodetto fest debutta con Rubini Cibo e Mare quante suggestioni l'attore regista si racconterà domani alle 21.30 nell'ambito della Kermess dedicata alle zuppe di pesce e con le marche ho un particolare legame affettivo qui ho girato il mio primo film il grande break di Giuseppe Piccioni allora vediamo regia lo spot del Brodetto Fest Torna il Brodetto Fest dal 30 maggio al 2 giugno a Fano con Sergio Rubini Diego Parassole Simona Molinari Renzo Rubino Andrea Aprea Alessandro Circiello e Igles Corelli e poi la cucina dei pescatori la gara nazionale dei brodetti e delle zuppe di pesce Brodetto & Kids e il nuovo spazio vongole info su brodettofest.it insomma veramente un'edizione anche questa pazzesca e noi ve la racconteremo sulla nostra tv restiamo nelle pagine di Fano si parla ancora di prenotazioni al CUP ho chiesto un appuntamento con me stesso dice il dottor Cesare Magalotti la risposta del CUP spiacenti non c'è posto il tragicomico aneddoto del primario Magalotti che ha tentato in vano di prenotarsi una visita questo ed altri paradossi della sanità sono stati messi in fila dal candidato del PD perché sapete che il dottore si candida con il PD al Santa Croce blocco anticipato delle sale operatorie 16 interventi in meno al mese non c'è nulla da inventare basta guardare cosa accade in Veneto in Emilia Romagna e Liguria dove non frazionano certo gli ospedali come hanno fatto nella nostra provincia è ancora inutile costruire una stalla d'oro quando si rischia di non avere più cavalli da corsa queste sono le parole appunto del dottor Magalotti e poi c'è la replica del centrodestra mai tanti soldi su Fano Baldelli rivendica la nuova palazzina invece delle emergenze e l'ospice che sono state create appunto a Fano Sir Filippi dice il Santa Croce sopravvive solo con noi e poi i fan dell'astensionismo sono solo irresponsabili qui a parlare il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi che è il sindaco uscente di Cartoceto ma corre da solo per il terzo mandato senza il quorum però il commissariamento paralizzerebbe l'attività amministrativa quindi l'invito è quello di andare a votare i cittadini di Cartoceto devono votare anche se comunque il candidato è uno unico Urbino è stato fatto l'ultimo consiglio comunale in questo ultimo consiglio però sono state approvate tante delibere approvata con urgenza la vendita ad esempio del terreno alla regione per allargare il pronto soccorso e qui ci sono state anche delle polemiche contestato il metodo il PD non ha accettato che a legislatura pressoché scaduta si continui a votare e qui abbiamo un'altra morte qui stiamo parlando di il dipendente di 53 anni di Marche Multiservizi che stava facendo manutenzione è stato trovato a terra senza vita si accascia e muore alla cabina del gas è morto improvvisamente mentre stava facendo manutenzione ad una cabina di gas si chiamava Giorgio Bernardini 53 anni originario di Apecchio dipendente di Marche Multiservizi come tutte le mattine si era alzato presto a un certo punto intorno alle 10 mentre stava facendo il suo lavoro si è accasciato esanime sulla strada poi è stato notato a terra da un autista di un corriere che stava passando sul posto scatta l'allarme i sanitari arrivano purtroppo non c'è nulla da fare per lui Bernardini lascia la moglie una figlia e la mamma oltre a diversi parenti molto conosciuto aveva tanti amici partecipava alla vita associativa del paese di Apecchio insomma veramente un ragazzo che tutti ricordano con grande affetto e poi ieri avete visto nel nostro telegiornale cambiando sempre argomento ma restando su Urbino all'università è stato conferito il sigillo d'Ateneo all'ex regbista Diego Dominguez nato in Argentina da mamma di Matelica e poi tornato in Italia da campione veramente una storia bellissima che vi racconteremo su Rossini TV sappiamo lo speciale regia quando andrà in onda come si verifichiamo come sapete insomma tutte le cose che l'università di Urbino noi ve le comunichiamo ve le raccontiamo quindi potete essere partecipi di tutte le iniziative di questa prestigiosa università intanto andiamo quando sabato ore 21 e 20 potete vedere tutto il racconto appunto di questo sigillo d'Ateneo andiamo adesso a parlare della mostra del cinema quest'anno compie 60 anni la mostra internazionale del nuovo cinema di Pesaro questo è il titolo esatto che avviene sempre nel periodo di giugno quest'anno ci saranno degli ospiti pazzeschi si fa con ad esempio Sergio Castellitto Jasmine Trinca Luca Guadagnino Valentina Lodovini Enzo Dallofi Carre Picone insomma tantissimi per celebrare gli ospiti per celebrare questa Kermesse che parte con un giorno d'anticipo venerdì il 14 giugno in Piazza del Popolo ci sarà Sergio Castellitto e poi martedì 18 ci sarà Valentina Lodovini sabato 22 Luca Guadagnino che riceverà il premio Pesaro Nuovo Cinema 60 l'evento speciale sul cinema italiano sarà dedicato a Ficare Picone presenti in piazza domenica 16 giugno fissatevi queste date perché come sapete gli spettacoli gli appuntamenti i convegni le conferenze della mostra del cinema sono tutte completamente gratuite ed ora andiamo al Corriere Adriatico e partiamo dalle dalle pagine di Pesaro e anche qui tutti d'accordo Pantano non sarà un'altra storia stiamo parlando della raccolta firme che hanno fatto appunto i residenti per scongiurare l'apertura di un nuovo supermercato e anche durante il dibattito dei candidati a sindaco a Pesaro anche questi hanno confermato insomma che non c'è l'intenzione comunque di creare un nuovo supermercato e anche qui la notizia al confronto una partita 3 contro 1 e Biancani il candidato da battere in realtà anche se i candidati sono 4 insomma c'è una sorta di coalizione contro Andrea Biancani marcato a uomo da Lanzi per Riccioliva Flaminio gremito per il dibattito dell'azione cattolica e allora lo ricordiamo anche noi regia che appunto il 4 giugno faremo questa diretta televisiva con il confronto appunto tra i candidati a sindaco 4 giugno ore 21.20 in diretta ne abbiamo parlato ieri nel nostro telegiornale di questo prelievo di cuore che è arrivato a destinazione pensate ancora battente pensate quanto la scienza le scoperte scientifiche i macchinari la tecnica possa veramente salvare le nostre vite per la prima volta a San Salvatore è stato utilizzato questo dispositivo per la prima volta appunto si chiama Heart si chiama Organ Care System Heart questo è il nome ufficiale che permette di irrorare l'organo anche dopo l'esportazione e quindi arriva a destinazione ancora battente pensate si tratta del primo prelievo cardiaco realizzato all'ospedale di Pesaro con questo macchinario spiega il dottore generale dell'asta Alberto Carelli che rappresenta una delle più significative innovazioni tecnologiche nel campo dei trapianti e della preservazione d'organo il cuore del donatore un uomo di 55 anni dopo il prelievo ha ripreso a battere nella scatola sterile irrorato da sangue caldo e ossigeno per ridurre il periodo di non perfusione che è particolarmente dannoso per gli organi quindi pensate che cosa pazzesca insomma un cuore che viene tolto dal corpo di un uomo morto ancora batte e ancora battente riesce a essere donato poi a un altro i prelievi di organi sono avvenuti nella notte tra il 25 e il 26 maggio e il 21 maggio scorso su due pazienti uno di 70 anni e un altro di 55 gli organi trasportati sono due fegati due corne ed un cuore che permetteranno di dare una speranza di vita a diversi pazienti e anche il Corriere Adriatico chiaramente oggi parla di questa brutta notizia schiacciato dal carrello trasportatore papà di due bambini muore alla FAB Simone Mezzolani aveva 33 anni era di morciola nel mobilificio di Gallo stava controllando il macchinario aveva inserito la sicura diciamo una leva per la sicurezza per fermare il macchinario ma questo macchinario non si sa perché è ripartito e ora chiaramente le indagini andranno avanti ci saranno in colloquio anche con la ditta che ha prodotto questo macchinario oltre chiaramente con i titolari della FAB shock per i colleghi di lavoro l'azienda fondata cinque anni fa conta circa 400 dipendenti e poi se volete leggere le pagine dedicate alle elezioni oggi Corriere Adriatico fa un'intervista a Maria Francesca Crespini che è la candidata sindaco di Urbino per noi l'ambiente non è negoziabile stop alle discariche e poi abusi sugli allievi di tennis condannatelo a sei anni questo è il processo siamo a Fano che vede protagonista questo maestro di tennis accusato di atti sessuali su alcuni allievi minorenni ieri il pubblico ministero ha chiesto la condanna a più di sei anni di carcere il caso era esploso nel febbraio 2023 a seguito delle denunce di tre ragazzini che all'epoca erano minorenni la richiesta del PM Napolillo l'inchiesta aperta dopo le accuse di tre ragazzi l'avvocata Ugolini ma uno di loro ha cercato di avere nuove lezioni con questo professore quindi l'istruttore si era difeso dicendo che sarebbe stato affettuoso con tutti perché è argentino e nel suo paese le persone sono più espansive questo è quanto ha detto lui raccolta di firme anche a Fano esattamente a San Lazzaro PRG un blitz inaccettabile raccolte 500 firme contro partecipata assemblea di aria pulita che osteggia il polo logistico appunto altre 60 firme si sono aggiunte alla protesta contro le nuove previsioni urbanistiche sull'area dell'ex zuccherificio ancora avanti e andiamo a Gabice Mare focus sui parcheggi proposte di Girolomoni e Bencivenga la questione sosta affrontata nei programmi di entrambe le liste a Gabice Mare a parziale rettifica di quanto erroneamente pubblicato nell'edizione del Corriere Adriatico del 27 maggio nei programmi elettorali dei due candidati a sindaco Mari e la Girolomoni per la lista civica insieme per Gabice Mare e Michele Bencivenga per la lista civica a Mare Gabice a proposito della previsione di ulteriori parcheggi si precisa che la lista insieme per Gabice Mare di Mari e la Girolomoni ha in programma la realizzazione di 350 parcheggi nell'area sottostante il manufatto di 25 aprile nell'area sottostante il nuovo polo scolastico elementare progettato nel comparto oltre al recupero dei 350 posti nell'ambito viario in programma la rivisitazione della viabilità nel centro turistico di Gabice Monte al fine di favorire maggiori posti auto bici e moto e al contempo maggiore sicurezza e qui ci sono anche gli altri programmi entrambe le liste hanno progetti interessanti per migliorare la mobilità l'accessibilità e la sosta allora io lo ridico anche qui davanti a voi noi volevamo fare un confronto anche con il comune di Gabice per queste elezioni Marila Girolomoni ha subito accettato invece Bencivenga ha rifiutato l'invito quindi non si è voluto confrontare lo dico perché è giusto che i cittadini sappiano non era una scelta di Rossini TV non fare un confronto politico per il comune di Gabice così come non è la scelta di Rossini TV non fare il confronto politico sul comune di Vallefoglia del quale solo Torcoletti il candidato a sindaco a Vallefoglia ha accettato il confronto gli altri tre candidati invece non hanno accettato commentate voi questa situazione insomma il confronto è sempre importante è sempre importante metterci la faccia soprattutto quando si ha l'aspirazione di diventare sindaci e bisogna confrontarsi quotidianamente andiamo allo sport adesso abbiamo un messaggio da leggere che riguarda la regione la sanità esattamente buongiorno a tutti è davanti agli occhi di chiunque il fallimento della gestione della sanità da parte della giunta regionale di centrodestra che giustifica il tutto con gli errori della giunta precedente no dopo quasi quattro anni di governo la situazione della sanità nelle marche è sempre e solo peggiorata non esistono giustificazioni grazie Stefano per il tuo commento Francesca non possiamo permetterci di non impegnarci per il sistema sanitario la sicurezza del nostro città passa necessariamente per la salute dei cittadini perché non può accadere che manchi l'assistenza ai vari livelli esatto poi insomma va bene grazie dei commenti intanto andiamo allo sport vis un buon seguito che va incrementato allora qui oggi nell'articolo si parla del fatto che insomma erano presenti 3.000 spettatori alla questa gara questa partita pazzesca memorabile di play out contro la ricanatese sono una base di partenza in un a Pesaro regina del basket anche il calcio comunque ai suoi appassionati quindi cerchiamo dicono nell'articolo di non perdere questi tifosi che seguono appunto la vis e poi Pesaro ha le qualità per un'altra impresa domani e ci saranno anche le telecamere di Rossini TV al Palamega Box a Pesaro gara 2 di semifinale con Catania Bordoni ci crede il Palamega domani sarà una bolgia pronto a trascinare l'ital service Pesaro la prevendita dei biglietti sta volando in vista di gara 2 della semifinale scudetto di serie A i Biancorossi alle 20.30 ospitano la Meta Catania dopo aver perso il primo round della serie intera siciliana quindi domani ore 20.30 e poi WL si lavora al coach in Pol c'è l'idea Sacripanti nella lista del CDA ci sono anche Brienza ottima stagione a Pistoia e parente per quanto riguarda Trapani e allora vi voglio ricordare anche che con questi giorni con il Corriere Adriatico trovate questo libro che parla delle passeggiate ed escursioni nelle marche con un'aggiunta di prezzo potete acquistarlo in edicola sono 45 itinerari per tutti con traccia GPX e allora vi faccio vedere ad esempio quegli itinerari che riguardano la provincia di Pesaro Urbino la cima dei Galli vedete come è creato Monte Catria dalla Madonna degli Scout la lunghezza il dislivello le ore totali di cammino la segnaletica quindi veramente è fatto molto bene poi anche delle cose interessanti da sapere sul posto poi ad esempio una ripida cresta anello del monte acuto da Bocca di Valle anche qui 6 km circa di camminata insomma veramente un libro che vi consiglio ci sono delle informazioni utili anche per scoprire camminando con la bella stagione il nostro territorio e poi andiamo a vedere anche questo la montagna dell'imperatore vedete Monte Nerone la montagna del rifugio Corsini tutto l'escursione l'itinerario quello che c'è da vedere le informazioni utili insomma questa è la guida che trovate in edicola passeggiate ed escursioni nelle marche e questo libro che trovate assieme al Corriere Adriatico ma lo dovete richiedere appunto in edicola bene siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale andiamo a vedere a regia quello che accade oggi oggi è appunto mercoledì e subito dopo questa rassegna troverete un approfondimento come di consueto dedicato alla natura della cultura tutti gli appuntamenti e i protagonisti di questo anno capitale e poi andiamo ancora avanti questa sera no ieri sera è andato in onda il confronto dei candidati a sindaco di Fano e allora oggi e fino a lunedì in questi orari che vedete vedete oggi ad esempio le 15.15 giovedì alle 22.30 venerdì alle 11.30 domenica alle 20.30 magari come orario vi è comodo per rivedere questo confronto fra i candidati a sindaco di Fano e poi questa sera alle 21.20 invece questa iniziativa questo convegno che c'è stato organizzato dalla Confcommercio Abbattiamo le barriere una legge per il diritto allo svago è un interessante dibattito momento di riflessione che vi mostriamo proprio questa sera e poi il nostro telegiornale come sempre segnalateci le cose che non vanno mandate foto video lo fate tutti i giorni e per questo vi ringraziamo enormemente perché veramente riusciamo a risolvere tante cose grazie ai vostri occhi alle vostre segnalazioni dal vostro quartiere oppure anche dal vostro comune quindi salvatevi sempre il nostro numero di Whatsapp nel vostro cellulare abbiamo detto tutto regia io vi ringrazio per essere stati con noi vi ringrazio anche per i tanti messaggi che sempre ci mandate continuate a seguire Rossini TV io intanto vi auguro una buona giornata grazie a tutti Grazie a tutti. Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me, buongiorno al latte e al caffè, buongiorno a chi non c'è, e al mio amore buongiorno per dirle che lei che per prima al mattino vede io vorrei, è un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te. Grazie a tutti. Grazie a tutti.